Parco Le Cicogne è una location dall'atmosfera romantica e suggestiva, ideale per trascorrere il giorno più bello della vostra vita. La struttura dispone di un immenso spazio verde circondato da un suggestivo laghetto. La festa in plein air sarà arricchita dalla presenza di un gazebo in grado di ospitare 220 persone. Il parco, ricco di fascino e incanto, sarà il contesto ideale per vivere al meglio il giorno in cui convolerete a nozze. All'interno potrete godere in esclusiva di un ampio ristorante e della sua grande terrazza panoramica. Parco Le Cicogne dispone di meravigliosi ambienti dove potrete organizzare in loco la vostra cerimonia civile, colorandola di sfumature country, eleganti e raffinate. La location vi offrirà la personalizzazione dell'allestimento delle diverse fasi del banchetto. Nel servizio verranno inclusi tutti quegli aspetti utili a realizzare un evento di livello, come l'accoglienza degli invitati, il servizio ai tavoli e la realizzazione di un menù da favola che vi permetterà di regalare a tutti i presenti un banchetto saporito e genuino. Grazie per la visione!